Il Barcellona continua a fare notizia, ma questa volta la nonotizia è una di quelle scommolgenti. Tito Villanova è nuovamente malato e dovrà operarsi ancora di tumore. Il tecnico Blaugrana aveva subito un intervento chirurgico lo scorso 22 novembre per un cancro alla ghiandola parotide. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dal club catalano che però ha annullato il tradizionale pranzo di Natale con la stampa. I suoi giocatori, i colleghi, tutto il mondo del calcio e dello sport gli augurano una pronta guarigione. Il primo ad intervenire è Xavi che dichiara sono veramente addolorato per questa notizia. Arrivano poi le reazioni da parte di Rafa Nadal che aggiunge Esprimo con forza tutto il mio sostegno a Tito Villanova affinché possa superare questo momento. Villanova era subentrato a Pep Guardiola la scorsa stagione dando al Barça soddisfazioni in campionato in Europa rispettivamente con il momentaneo primo posto nella Liga e con il raggiungimento degli ottavi in Champions League. Il club ancora in silenzio stampa dovrebbe rilasciare a breve una dichiarazione ufficiale. Grazie. 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 Grazie.